3 dicembre. Si celebra la giornata internazionale delle persone con disabilità. Istituita dall'ONU nel 1992, mira a promuovere una più diffusa e approfondita conoscenza sui temi della disabilità. Ogni anno in questa data vengono proposte campagne di sensibilizzazione che, richiamando l'attenzione sui vantaggi di una società inclusiva e accessibile a tutti, si prefiggono di abbattere quelle barriere culturali e ambientali che affliggono quotidianamente un miliardo di persone con una o più forme di disabilità.